Guardare avanti, è nella nostra natura. Per questo noi di Fiat, Lancia e Alfa Romeo, anche se gli incentivi statali non sono partiti, vogliamo darti comunque una certezza. I nostri incentivi ci sono. Con tutta la nostra gamma GPL metano, parti subito e ti conviene tre volte. Quando acquisti, hai fino a 5.000 euro di incentivi. Quando paghi, hai 5 anni di finanziamento con Anticipo Zero, Tan Zero, Taegune 52. E quando guidi, il pieno ti costa meno della metà, ma solo fino al 31 marzo. Anche sabato e domenica.